L'assessore all'ambiente della Regione Veneto Bottacin afferma che la Regione ha mescinato oltre 70 misure, investendo più di un miliardo di euro per la tutela e il risanamento dell'atmosfera. La Regione sta facendo la sua parte e continuerà a farla per il contenimento dei PM10. Ieri si è tenuta una riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, il CIS, a cui prendono parte i presidenti di provincia e i sindaci dei capoluoghi, dedicata all'attuazione delle misure di contenimento delle emissioni, tra queste le limitazioni del traffico che partiranno dal prossimo 1 ottobre. Vista la situazione attuale, ancora ad agosto, Bottacin aveva scritto al Ministro della Transizione Ecologica affinché valutasse un'eventuale modifica temporanea all'accordo di programma per migliorare la qualità dell'aria nel bacino padano. Proprio in questo sono specificate le direttive riguardanti una serie di riduzioni al traffico a partire dal prossimo 1 ottobre. Durante la riunione di ieri pomeriggio è emersa la volontà di chiedere una deroga, ma è necessaria una risposta positiva da parte del Ministero. Per ridurre l'effetto dell'inquinamento, la Regione continuerà ad investire nel rinnovo dei mezzi, sia pubblici che privati, in modo da migliorarne l'efficientamento energetico. È emerso durante la riunione anche il lavoro realizzato a livello zonale, importante per contribuire a ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico. Grazie a tutti!